Buongiorno, sono Luigi Deli, sono il fondatore e CEO di Volo Online Tour Operator. Sono qui per trasmettere un messaggio di positività perché? Perché finalmente c'è la famosa ripartenza, ne abbiamo parlato per tanto tempo e finalmente è arrivata. Le vendite stanno riprendendo e stanno riprendendo verso le agenzie di viaggio. Noi infatti siamo un operatore che non vende direttamente al pubblico ma vende solo ed esclusivamente ad agenzie di viaggio professioniste che garantiscono una qualità e una sicurezza nel viaggio. Quello che è capitato ci ha dimostrato che se si investe in viaggi si è sicuri, si ha la certezza che i propri soldi sono investiti bene e non verranno persi. nel momento in cui ci si rivolge un operatore professionista. Noi siamo specializzati in alcune destinazioni da sogno. Siamo specializzati nella Grecia, siamo specializzati nelle Maldive, siamo specializzati nella Sudafrica. Alcune di queste destinazioni non sono ancora aperte, speriamo che vengano aperte al più presto, ma molte di queste destinazioni sono destinazioni nelle quali si può andare. Si può andare con sicurezza e si può andare con sicurezza soprattutto se ci si rivolge a un'agenzia di viaggio professionista in grado di garantire al meglio la coerenza tra quello che si acquista e i propri desiderata e i propri bisogni. Non tutti gli alberghi sono adatti a tutti, spesso le recensioni su internet non sono attendibili, solo ed esclusivamente un vero agente di viaggio che si appoggia a un operatore professionale come noi può consigliarvi che cos'è la soluzione migliore per il vostro tempo libero. Ricordatevi, un viaggio significa investire oltre che del denaro in qualità del vostro tempo libero e solo in agenzie di viaggi questa qualità può essere massimizzata.